Massimo Bitonci, la Presidente della Camera Boldrini dice che bisogna abolire il reato di immigrazione. Lei come risponde? Ma è che è un gravissimo errore. Il reato di immigrazione c'è un po' in tutta Europa, per cui se noi aboliamo il reato di immigrazione clandestina non faremo altro che attrarre nuovi clandestini nel nostro territorio. Almeno questo è un deterrente e come assolutamente assurde sono le dichiarazioni di questi giorni sull'abolizione della Bossifini. La Bossifini non c'entra assolutamente nulla con quello che sta succedendo sulle coste di Lampedusa e i morti che ci sono purtroppo stati in questi giorni che non saranno nei primi, negli ultimi purtroppo. La Bossifini è una legge seria, è una legge che regola l'immigrazione tenendo conto che quando uno straniero viene nel nostro territorio deve avere un posto di lavoro l'abolizione non serve a fare nient'altro che richiamare nuovi clandestini in Italia e nel nostro paese. Bisogna quindi chiedere l'intervento dell'Europa su questo tema? L'intervento dell'Europa è un intervento fondamentale. Fino adesso i paesi europei che non si affacciano sul Mediterraneo non hanno subito questa forte migrazione che c'è stata soprattutto negli ultimi anni. È una situazione che deve prendersi in carico l'intera Europa, non si può nascondere la testa sotto la sabbia solamente perché i clandestini non arrivano dal mare del nord Europa ovviamente. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, che deve essere una responsabilità sia riguardo ai migranti, quindi ogni paese deve assumersi una quota di questi migranti, sia responsabilità di carattere economico perché la gestione di questa crisi costa molto e attualmente viene gestita solamente dall'Italia. Per quanto riguarda il Frontex, questo è sempre stato un apporto europeo insufficiente perché quei 40 milioni che sono stanziati non servono assolutamente a gestire questo momento di grave difficoltà.